Previsioni meteo per domenica 16 novembre. Al nord migliora salvo residui fenomeni in Lombardia e tempo a tratti instabile sul Levante Ligure, più brutto sul Triveneto con precipitazioni su Alpi e Prealpi. Al centro spiccata instabilità su tutto il versante tirrenico in Sardegna con nuovi acquazzoni o temporali in arrivo soprattutto nella seconda parte della giornata. Al sud tempo a tratti instabile sul basso tirreno con acquazzoni più frequenti sulla Campania specie dalla sera, venti deboli di direzione variabile, mari molto mossi, agitato o molto agitato in Ligure, temperature senza variazioni. Grazie a tutti.